Ho finalmente di nuovo un Gorillapod per fare le mie recensioni senza dover tenere la telecamera in mano Ho scelto un Gorillapod della Joby che adesso vi mostro Ovviamente dovrò staccare la telecamera Eccolo qui Ho scelto questo Gorillapod molto più grosso, molto più rinforzato di quello precedente Perché quello precedente si era rotto qui Anche se Amazon vi racconto che me lo ha sostituito gratuitamente Perché si è rotto per usura, non perché l'ho schiantato o cosa Me l'hanno sostituito gratuitamente E sono veramente soddisfatto di questo prodotto Sia come treppiedi sia come stand per tenere la telecamera in mano Direi che è uno dei migliori prodotti che tengo sempre con me in valigia Tra l'altro questo ha anche la testa remotata che può essere staccata Se voi ruotate questa testina qui potete andare a smontare anche il supporto Io ho preso quello completo perché mi sembrava il più interessante effettivamente Ma se non siete interessati al supporto o se magari avete già una vostra testa remotata Non vi serve andare ad acquistare Dal mio punto di vista l'ho preso completo perché mi piaceva nella sua interezza Quindi, Marchetta Joby fatta anche per la giornata di oggi Sto cercando con una sola mano di rimettere a posto Ce la farò, ce la farò Sì, ce la sto facendo, ce l'ho fatta Dicevo, Marchetta Joby anche questa l'abbiamo fatta Spero che vi sia piaciuto questo prodotto Vi lascio il link in descrizione perché è veramente un prodotto indispensabile per tutti quanti Non mi resta che salutarvi Ricordatevi di iscrivervi al mio canale Cliccate mi piace Accendete la campanellina perché altrimenti non vi avvertono quando esce un nuovo video Un saluto a tutti quanti Buon editing E alla prossima Ciao